Ma Lebo può aiutare a scoprire molti gols, questo è quello che abbiamo portato Lebo. Per quanto riguarda Mario, ho avuto l'experienza della confederazione in Africa, ho avuto l'affricana, perché ho avuto due anni, ho coachato l'algeria per l'affricana. Ho avuto l'affricana in confederazione. E ho conosciuto il difficile di giocare nell'affricana. Perché quando giochi l'affricana in Europa, hai due ore in Europa, hai due ore in Europa. Ho avuto l'affricana in Europa, ho avuto l'affricana in Europa. Quando giochi l'affricana in Nord Africa, il viaggio è 8-10 ore. Il vero è diverso. Potremmo qui c'è l'affricana, in Nord Africa c'è l'affricana. Qui c'è l'affricana 30 gradi, quando giochi l'affricana in Algeria, ho avuto 10-15 ore. È difficile, è diverso. Un approccio necessario. Un approccio necessario di una forte squadra, perché bisogna rotare i giocatori. Se il giocatore giochi in un'affricana competizione, e dopo che arrivi, non c'è tempo per restare, non c'è tempo per recuperare. E ci bisogna il giocatore, per giocare la liga. Ci bisogna la strategia di rotazione. Questo è il motivo che abbiamo portato Mario. Grazie. Grazie.